Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo si sono formati un chilometro di coda in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato, con indicazioni segnalate in loco. Per la viabilità cittadina a Firenze, per quattro mesi, lavori di riqualificazione in Borgo Santa Croce. Per marcia a piedi e carreggiata sarà usata la pietra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!